Buongiorno signori, io sono Mr. Lull e oggi torna la nostra rubrica dedicata al calendario pagamenti IMSD, NASPI, reddito di cittadinanza, bonus bebè, carta acquisti, integrazione, pensioni minime del mese di luglio 2020. I pagamenti della NASPI avvengono tipicamente entro il 15 del mese successivo a quello di competenza, quindi entro il 15 luglio ci aspettiamo l'erogazione della NASPI di competenza giugno 2020. Per avere un riferimento lo scorso anno i pagamenti iniziarono il 9 luglio 2019, vi ricordo che però le date variano da persona a persona quindi dovete visionare il vostro fascicolo previdenziale. E per la proroga NASPI? Il ministro Catal for mai diversi giorni fa aveva annunciato che entro breve gli aventi diritto avrebbero ricevuto i pagamenti, ma ad oggi date ufficiali 0. Le ricariche di reddito e pensione di cittadinanza sono previste regolarmente anche per luglio e inizieranno come sempre a fine mese. Sappiamo che il giorno di erogazione è tipicamente il 27 che a luglio cade di lunedì, quindi per questo mese non dovremmo avere particolari sorprese. Per chi purtroppo invece si trova senza ancora lavorazioni e pagamenti del mese di giugno ho fatto un video dedicato, andatelo a recuperare sul canale. Bonus bebè, ho notizie interessanti, il pagamento di luglio 2020 dovrebbe avvenire regolarmente entro il 15-20 del mese, mentre per i nati 2020 pare che alcune domande abbiano iniziato a sbloccarsi, lo stato è passato in accolta, quindi entro tempi umani dovrebbe arrivare pagamento con arretrati. Controllate il vostro fascicolo e fatemi sapere nei commenti. Lo scorso anno invece il bonus bebè è stato erogato a partire dal 15 luglio del 2019. Passiamo alle pensioni minime a 1000 euro per la campania. Il secondo e ultimo pagamento dell'integrazione arriverà tra il 30 giugno e il 3 luglio. Mi raccomando controllate sempre online per avere la vostra data precisa. A luglio 2020 torna anche la ricarica bimestrale della carta. Acquisti che se tutto sarà regolare dovrebbe arrivare entro la prima metà del mese. Lo scorso anno ad esempio le ricariche sono iniziate dal giorno 4. E detto questo io vi aspetto nei commenti e noi come al solito ci vediamo in un prossimo video. Un saluto a tutti da Mr. Lul.